Ciao a tutti, questo è un invito alla lettura del libro di Richard Dawkins intitolato Il gene egoista, la parte immortale di ogni essere vivente. Il libro Pubblicato per la prima volta nel Regno Unito nel 1976, il gene egoista ha rivoluzionato il modo con cui i scienziati, ma anche i non addetti ai lavori, leggono la storia dell'evoluzione. Il nocciolo centrale del saggio è oggi parte fondamentale dell'insegnamento della biologia in tutto il mondo, una logica derivazione del darwinismo che ha scelto di cambiare prospettiva concentrandosi non sul singolo organismo ma osservando la natura dal punto di vista del gene. La deduzione scientifica è, per dirla con l'immaginifico linguaggio dell'autore, che noi siamo macchine da sopravvivenza, robot semoventi programmati ciecamente per conservare quelle molecole egoiste note sotto il nome di geni. Rivolto a tre tipi di lettore, il profano, lo studente, l'esperto, questo libro è pensato per stimolare con ironia l'immaginazione e l'intelligenza di chiunque si chieda qual è il posto dell'uomo nell'universo. Un saggio imprescindibile che riesce a semplificare e rendere comprensibili complicati concetti scientifici con un linguaggio non matematico ma senza che ne vada perduta la sorprendente essenza. Premessa alla prima edizione. Gli scimpanze e gli esseri umani condividono circa il 99,5% della propria storia evolutiva e tuttavia la maggior parte dei pensatori umani considera lo scimpanze come una deforme, irrilevante stranezza, mentre vede se stessa come il corridoio verso l'onnipotente. Per un evoluzionista non può essere così. Non esiste nessuna base oggettiva per levare una specie al di sopra dell'altra. Lo scimpanze e l'uomo, la lucertola e il fungo, tutti ci siamo evoluti nel corso di più di 3 miliardi di anni grazie a un processo conosciuto come selezione naturale. La selezione naturale è questo, la riproduzione differenziale non casuale di geni. All'interno di ogni specie alcuni individui hanno una discendenza più numerosa di altri, così che i tratti ereditari, geni, di chi ha successo dal punto di vista riproduttivo diventano più numerosi nella generazione successiva. La selezione naturale ci ha costruiti ed è la selezione naturale che dobbiamo capire se vogliamo comprendere la nostra identità. Sebbene la teoria di Darwin dell'evoluzione per selezione naturale sia centrale nello studio del comportamento sociale, specialmente se coniugata alla genetica di Mendel, essa è stata grandemente trascurata. Nelle scienze sociali sono cresciute intere industrie dedicate alla costruzione di una visione pre-darwiniana e pre-mendediana della sfera sociale e psicologica. Persino nell'ambito della biologia, la scarsa considerazione e l'uso improprio della teoria darwiniana sono stati sbalorditivi. Quali che siano le ragioni di questo strano sviluppo, abbiamo la prova che stia per concludersi. Il grande lavoro di Darwin e Mendel è stato ampliato da un sempre crescente numero di specialisti e in particolar modo da Fisher, Hamilton, Williams e Maynard, Smith. Ora, per la prima volta, l'importante corpo della teoria sociale basata sulla selezione naturale viene presentato in forma semplice e popolare da Richard Dawkins. Uno per uno, Dawkins affronta i temi più importanti dei nuovi studi di teoria sociale. I concetti di comportamento altruistico ed egoistico, la definizione genetica dell'interesse personale, l'evoluzione del comportamento aggressivo, la teoria della parentela, compresi i rapporti genitori-figli e l'evoluzione degli insetti sociali, la teoria della proporzione tra i sessi, l'altruismo reciproco, l'inganno e la selezione naturale delle differenze tra i sessi. Con la sicurezza che gli viene dal padroneggiare la teoria sottostante, Dawkins sviluppa la nuova opera con stile e chiarezza ammirevoli. Con la sua vasta erudizione in biologia, trasmette al lettore il gusto della ricca e fascinante lettura sulla materia. Laddove si distanzia dalle opere già pubblicate, come accade quando critica un mio stesso errore, fa quasi invariabilmente centro. Dawkins si preoccupa anche di chiarire la logica delle sue argomentazioni, così che il lettore, applicando tale logica, possa estenderle e persino sfidare lo stesso Dawkins. Ma sono le argomentazioni stesse a estendersi in numerose direzioni. Per esempio, se, come sostiene Dawkins, l'inganno è fondamentale nella comunicazione animale, allora deve esistere una forte selezione naturale tesa a individuare l'inganno, e questo dovrebbe a sua volta selezionare un certo grado di autoinganno, che renda inconsci alcuni fatti e motivazioni in modo che essi non tradiscano, per mezzo dei sottili segnali della consapevolezza, l'inganno in atto. Perciò, la visione convenzionale secondo cui la selezione naturale favorisce il sistema nervoso che produce immagini sempre più accurate del mondo, deve essere una visione molto ingenua dell'evoluzione mentale. I recenti progressi nella teoria sociale sono stati abbastanza sostanziali da scatenare una modesta folata di attività contro-rivoluzionaria. Si è asserito, per esempio, che il recente progresso sia, di fatto, parte di una cospirazione ciclica volta a impedire l'avanzamento sociale facendo in modo che tale avanzamento risulti geneticamente impossibile. Una dopo l'altra si sono inannellate analoghe deboli idee per dare l'impressione che la teoria sociale darwiniana sia reazionaria nelle sue implicazioni politiche. Ciò è molto lontano dal vero. L'uguaglianza genetica dei sessi è, per la prima volta, chiaramente stabilita da Fish e Hamilton. La teoria e i dati quantitativi derivati dagli insetti sociali dimostrano che non c'è alcuna tendenza innata da parte dei genitori a dominare i suoi figli, o viceversa. E i concetti di investimento parentale e scelta femminile forniscono una base oggettiva e imparziale per valutare le differenze tra i sessi. Un considerevole progresso rispetto ai tentativi diffusi di far germogliare il potere e i diritti delle donne nell'inutile palude dell'identità biologica. In breve, la teoria sociale darwiniana ci fa intravedere una simmetria e una logica alla base delle relazioni sociali che, quando sarà più pienamente compresa da noi tutti, dovrebbe rivitalizzare la nostra visione politica e fornire il supporto intellettuale a una scienza e una medicina della psicologia. Nel fare ciò, essa dovrebbe anche offrirci una conoscenza più profonda delle molte radici della nostra sofferenza. Questa introduzione era di Robert Trivers, Università di Harvard, luglio 1976. Prefazione alla prima edizione. Questo libro dovrebbe essere letto quasi come se fosse un libro di fantascienza. Infatti, è stato pensato per stimolare l'immaginazione del lettore. Tuttavia, non si tratta di fantascienza, ma di scienza vera. Anche se è un cliché, più strano della fantascienza, esprime esattamente il modo in cui io sento la realtà. Noi siamo macchine da sopravvivenza, robose moventi, programmati ciecamente per preservare quelle molecole egoiste note sotto il nome di geni. Questa è una verità che non cessa mai di stupirmi. E anche se la conosco da anni, non riesco mai ad abituarmici del tutto. Una delle mie speranze è di riuscire almeno in parte a stupire altre persone. Ho scritto questo libro immaginando di avere dietro le spalle tre lettori che seguivano il mio lavoro. E ora è a loro che lo dedico. Il primo lettore, il primo è il lettore qualunque, il profano. Per lui ho evitato quasi completamente il gergo tecnico e dove sono stato costretto a usare parole specializzate, ne ho dato una definizione. Mi domando adesso perché non si elimini la maggior parte del nostro gergo anche dalle riviste scientifiche. Sono partito dal presupposto che un profano, pur non possedendo una conoscenza specifica, non è uno stupido. Chiunque può divulgare la scienza semplificandola oltre misura. Ma io ho fatto del mio meglio per rendere comprensibili alcuni concetti sottili e complicati in un linguaggio non matematico cercando di evitare che la loro essenza andasse perduta. Non saprei dire fino a che punto abbia raggiunto questo scopo né un altro per me altrettanto ambito. Quello di rendere il libro piacevole e avvincente quanto il soggetto di cui tratta. Da molto tempo sento che la biologia dovrebbe riuscire stimolante quanto una storia ricca di misteri perché proprio questo è la biologia. Non oso neppure sperare di essere riuscito a trasmettere altro che una piccola parte dell'entusiasmo che questa materia può destare. Il mio secondo lettore immaginario è l'esperto. Questo è un critico severo che talvolta storce il naso di fronte alle mie analogie e al mio linguaggio figurato. Le sue espressioni preferite sono a eccezione di e ma d'altra parte. L'ho ascoltato con attenzione e ho anche riscritto completamente un capitolo a suo beneficio ma alla fine ho dovuto raccontare la storia a modo mio. L'esperto non sarà ancora totalmente soddisfatto del modo in cui espongo le cose ma la mia prima ma la mia più grande speranza è che anche lui trovi qui qualcosa di nuovo. Forse un nuovo modo di guardare idee familiari e perfino lo stimolo a formulare nuove idee. Se questa è un'aspirazione troppo alta posso almeno sperare che il libro gli renda più piacevole un viaggio in treno? Il terzo lettore che ho in mente è lo studente che sta passando da profano a esperto. Se non ha ancora deciso in quale campo vuole essere esperto spero di incoraggiarlo a considerare con maggiore attenzione quello della zoologia. C'è una ragione più importante per studiare la zoologia della sua possibile utilità e della generale amabilità degli animali ed è il fatto che gli animali sono le macchine più complicate e più perfettamente disegnate dell'intero universo conosciuto. Se la mettiamo in questo modo è difficile immaginare perché si possa voler studiare dell'altro. Lo studente che ha già optato per la zoologia spero che il mio libro abbia un qualche valore educativo. Nel corso dei suoi studi dovrà leggere gli articoli e i libri scientifici su cui si basa quest'opera e se troverà le fonti originali di difficile comprensione forse le mie interpretazioni non matematiche potranno esservi di aiuto come introduzione e commento. Vi sono dei pericoli è chiaro quando si cerca di rivolgersi a tre tipi diversi di lettori. Posso solo dire che ne sono consapevole ma che i vantaggi di un simile tentativo mi sono sembrati di gran lunga superiori. Sono un etologo e questo è un libro sul comportamento degli animali. Il mio tributo al pensiero etologico nel cui ambito ho compiuto i miei studi è più che evidente. in particolare nei 12 anni in cui ho lavorato sotto la guida di Nico Timbergen a Oxford egli ha avuto su di me un'influenza di cui non potrebbe nemmeno rendersi conto. La frase macchina da sopravvivenza sebbene non proprio sua ne è un esempio ma l'etologia è stata di recente rinvigorita da un'iniezione di idee fresche che provengono da fonti che non sono considerate per convenzione etologica. La paternità di queste idee è riconosciuta nei punti appropriati del testo ma le figure dominanti sono Williams Maynard Smith Hamilton e Trevers. Capitolo 1 Perché esiste la gente? La vita intelligente su di un pianeta diventa tale quando per la prima volta elabora una ragione della propria esistenza. se delle creature superiori provenienti dallo spazio mai visiteranno la Terra la prima cosa che domanderanno per stabilire il nostro livello di civilizzazione sarà hanno già scoperto l'evoluzione? Organismi viventi sono esistiti sulla Terra senza mai sapere perché per più di 3 miliardi di anni prima che uno di essi cominciasse a intravedere la verità. Il suo nome era Charles Darwin. A dire il vero altri avevano intuito qualcosa ma fu Darwin che per primo mise insieme una teoria coerente e difendibile che spiegava perché noi esistiamo. Darwin ci ha reso possibile dare una risposta plausibile al bambino curioso la cui domanda dà il titolo a questo capitolo. Non abbiamo più bisogno di rivolgersi alla superstizione quando affrontiamo i problemi profondi. La vita ha un significato? Che cosa ci stiamo a fare al mondo? Che cos'è l'uomo? Dopo aver posto quest'ultima domanda l'eminente zoologo Simpson così scrisse la mia opinione è che tutti i tentativi di rispondere a questa domanda compiuti prima del 1859 sono totalmente privi di valore e che faremo meglio a ignorarli completamente. Oggi non si può dubitare della teoria dell'evoluzione più di quanto si dubiti che la Terra gira intorno al Sole ma non tutte le implicazioni della rivoluzione darwiniana sono state ancora interamente apprezzate. Nelle università la zoologia è una materia secondaria e anche coloro che scelgono di studiarla spesso prendono queste decisioni senza apprezzare il suo profondo significato filosofico. La filosofia e le materie cosiddette umanistiche vengono ancora insegnate quasi come se Darwin non fosse mai esistito. Senza dubbio questo stato di cose cambierà con il tempo. Comunque questo libro non è inteso come un'esaltazione del darwinismo in generale ma piuttosto mira a esplorare le conseguenze della teoria dell'evoluzione in un caso particolare. Il mio scopo è quello di esaminare la biologia dell'egoismo e dell'altruismo. Oltre al suo interesse accademico l'importanza umana di questo argomento è ovvia in quanto esso tocca ogni aspetto della nostra vita sociale l'amore e l'odio la lotta e la cooperazione il donare e il rubare la brannosia e la generosità. La stessa cosa si sarebbe potuta dire di opere come Sull'aggressività di Lawrence Il contratto sociale di Hardray e Amore e Odio di Eibel Eibesfeld Il guaio di questi libri è che gli autori hanno sbagliato tutto Hanno sbagliato tutto perché non hanno capito come lavora l'evoluzione Sono partiti dal presupposto che la cosa più importante dell'evoluzione fosse il bene della specie o del gruppo invece che il bene dell'individuo o del gene È ironico che Ashley Montagu critichi Lawrence come un diretto discendente dei pensatori ottocenteschi del tipo Natura con i denti e gli artigli rossi di sangue Fine della citazione Secondo la mia interpretazione della teoria di Lawrence sull'evoluzione egli sarebbe per primo perfettamente d'accordo con Montagu nel rigettare le implicazioni della famosa frase di Tennyson Al contrario di loro io penso invece che l'immagine di una natura con i denti e gli artigli rossi di sangue riassuma in modo mirabile la moderna concezione della selezione naturale Prima di affrontare l'argomento di questo libro desidero spiegare brevemente di che cosa si tratta e di che cosa non si tratta Se ci dicessero che un uomo ha vissuto e prosperato a lungo nel mondo dei gangster di Chicago saremmo autorizzati a immaginare che tipo di persona fosse che avesse per esempio caratteristiche come durezza velocità nello sparare e capacità di legare a sé compagni fedeli Anche se non si tratta di deduzioni infallibili è tuttavia possibile fare qualche supposizione sul carattere di un uomo se si sa qualcosa sulle condizioni nelle quali è sopravvissuto e ha prosperato L'argomento base di questo libro è che noi e tutti gli altri animali siamo macchine create dai nostri geni Come i gangster di Chicago che hanno avuto successo i nostri geni sono sopravvissuti in alcuni casi per milioni di anni in un mondo altamente competitivo Questo ci autorizza ad aspettarci che i nostri geni possiedano certe qualità Io sosterrò che una qualità predominante da aspettarsi in un gene che abbia successo è un egoismo spietato Questo egoismo del gene provocherà in genere egoismo nel comportamento dell'individuo Come vedremo tuttavia esistono circostanze speciali in cui un gene può raggiungere le proprie mete egoistiche favorendo una forma limitata di artoismo a livello dei singoli animali Speciale e limitato sono però parole importanti in questa frase Per quanto ci dispiaccia pensarla così l'amore universale e il benessere della specie nel suo insieme sono concetti che non hanno alcun senso dal punto di vista dell'evoluzione Questo mi porta al primo punto che desidero chiarire su ciò che il presente libro non è Io non intendo sostenere una moralità basata sull'evoluzione Dico come le cose si sono evolute e non come noi esseri umani dovremmo comportarci Sottolineo questo punto perché so che esiste il pericolo di essere frainteso da quella gente troppo numerosa che non sa distinguere tra una dichiarazione di fede nella verità dei fatti e un'affermazione che così i fatti dovrebbero essere La mia opinione personale è che una società umana basata soltanto sulla legge del gene una legge di spietato egoismo universale sarebbe una società molto brutta in cui vivere Sfortunatamente però per quanto noi possiamo deplorare una cosa questo non le impedisce di essere vera Questo libro cerca soprattutto di essere interessante ma se voleste ricavarne una morale leggetelo come un avvertimento Siate consapevoli che se desiderate come me costruire una società in cui singoli cooperino generosamente e senza egoismo al bene comune dovete aspettarvi poco aiuto dalla natura biologica Bisogna cercare di insegnare generosità e altruismo perché siamo nati egoisti bisogna cercare di capire gli scopi dei nostri geni egoisti per poter almeno avere la possibilità di alterare i loro disegni qualcosa a cui nessun'altra specie ha mai aspirato Come corollario queste considerazioni sull'insegnamento è un errore è un errore molto comune supporre che i tratti ereditati geneticamente siano per definizione fissati e immodificabili I nostri geni possono istruirci a essere egoisti ma non siamo obbligatoriamente spinti a obbedire loro per tutta la vita Può semplicemente essere più difficile imparare l'altruismo di quanto lo sarebbe se fossimo stati programmati geneticamente a essere altruisti Fra gli animali l'uomo è l'unico essere dominato dalla cultura e da influenze apprese e trasmesse Qualcuno direbbe che la cultura è così importante che i geni egoisti o no sono praticamente irrilevanti per la comprensione della natura umana altri non sarebbero d'accordo Tutto dipende dalla posizione che si assume nella diatriba natura contro nutrimento come determinanti degli attributi umani e ciò mi porta alla seconda cosa che questo libro non è nella controversia natura nutrimento non sostiene né l'una né l'altra posizione naturalmente ho la mia opinione a questo proposito ma non ho intenzione di esprimerla eccetto per quanto implicito nella visione della cultura che presenterò nel capitolo finale se i geni si riveleranno totalmente irrilevanti per la determinazione del moderno comportamento umano se davvero siamo unici tra gli animali da questo punto di vista è come minimo interessante studiare la regola alla quale siamo diventati così recentemente un'eccezione e se la nostra specie non è così eccezionale come ci piacerebbe pensare questo studio diventa ancora più importante inoltre questo libro non è una descrizione dei dettagli del comportamento dell'uomo o di qualunque altra specie animale userò questi dettagli soltanto come esempi illustrativi e non dirò mai frasi come se osservate il comportamento dei babbuini lo troverete egoista e perciò è probabile che anche il comportamento umano sia egoista fine della citazione la logica dell'argomento del gangster di Chicago è completamente diversa e si può spiegare in questo modo l'uomo e il babbuino si sono evoluti per selezione naturale se osserveremo il modo di operare della selezione naturale concluderemo che qualunque cosa si evolva per selezione naturale sia egoista quindi dobbiamo aspettarci che se osserveremo il comportamento dei babbuini degli uomini e di tutte le altre creature viventi lo troveremo egoista e se scopriremo che non è vero se osserveremo che il comportamento umano è veramente altruista allora avremo di fronte qualcosa di strano che richiederà una spiegazione prima di procedere ulteriormente abbiamo bisogno di una definizione un'entità come il babbuino è detta altruista se si comporta in modo da aumentare il benessere di un'altra entità simile a spese del proprio il comportamento egoista ha un effetto esattamente opposto benessere è definito come probabilità di sopravvivenza anche se l'effetto sulla reale prospettiva di vita o di morte è così scarso da sembrare trascurabile una delle conseguenze della versione moderna della teoria di Darwin e che influenze apparentemente irrilevanti sulle probabilità di sopravvivenza possono avere un grande impatto sull'evoluzione in quanto hanno a disposizione un tempo enorme per rendersi manifesti è importante rendersi conto che le definizioni riportate sopra di altruismo ed egoismo sono comportamentali e non soggettile non ho intenzione di occuparmi qui della psicologia dei motivi né di stabilire se la gente che si comporta altruisticamente lo fa in realtà per motivi egoistici segreti o inconsci forse sì e forse no e forse non lo sapremo mai ma in ogni caso non è cosa che riguarda questo libro la mia definizione tiene conto solo del fatto che l'effetto di un atto è quello di aumentare o diminuire le prospettive di sopravvivenza del presunto altruista e le prospettive di sopravvivenza del presunto beneficiario dimostrare gli effetti del comportamento sulle prospettive di sopravvivenza a lungo termine è una questione molto complicata in pratica quando applichiamo la definizione al comportamento reale dobbiamo qualificarla con l'espressione a quanto sembra un atto apparentemente altruistico è uno che sembra superficialmente tendere ad aumentare anche se di poco la probabilità di morte dell'altruista e la probabilità di sopravvivenza del ricevente spesso a un esame più attento questi atti di apparente altruismo si rivelano tutti di egoismo mascherato ancora una volta non voglio dire che i motivi sottostanti sono segretamente egoistici ma che gli effetti reali dell'atto sulle prospettive di sopravvivenza sono l'opposto di quello che si pensava all'inizio darò qui alcuni esempi di comportamento apparentemente egoistico e altruistico è difficile sopprimere abitudini soggettive di pensiero quando abbiamo a che fare con la nostra stessa specie per cui sceglierò esempi che riguardano altri animali cominciamo con alcuni esempi di comportamento egoista da parte di animali singoli i gabbiani dalla testa nera nidificano in grosse colonie dove i nidi distano poche decine di centimetri l'uno dall'altro quando i pulcini escono dall'uovo sono piccoli e indifesi e facili da inghiottire è molto comune che un gabbiano aspetti che il vicino volti la schiena magari quando è fuori a pescare per inghiottirsi in un boccone uno dei suoi pulcini in questo modo ottiene un buon pasto nutriente senza scomodarsi a catturare un pesce e senza dover lasciare il proprio nido privo di protezione meglio noto è il macabro cannibalismo delle mantidi religiose femmine le mantidi sono grossi insetti carnivoli che mangiano normalmente insetti più piccoli come le mosche ma che attaccano quasi tutto quello che si muove quando si accoppiano il maschio striscia cautamente sulla femmina la monta e avviene la copulazione se ne ha l'opportunità la femmina non appena il maschio si avvicina o immediatamente dopo la monta o dopo che si sono separati se lo mangia a cominciare dalla testa sembrerebbe più logico che la femmina attendesse la fine della copulazione prima di cominciare a mangiare il maschio ma a quanto pare la perdita della testa non impedisce al resto del corpo del maschio di continuare l'atto sessuale anzi poiché la testa dell'insetto è la sede di alcuni centri nervosi inibitori è possibile che mangiandogliela la femmina ne migliori la prestazione sessuale se è così questo è un beneficio che si aggiunge a quello primario cioè ottenere un buon pasto la parola egoista sembra un po' debole per casi estremi come il cannibalismo anche se si adattano bene alla nostra definizione forse ci è più facile comprendere il comportamento codardo osservato nel pinguino imperatore dell'antarctico questi pinguini sono stati visti fermi in piedi ai bordi dell'acqua esitare a tuffarsi per paura di essere mangiati dalle foche se uno soltanto di loro si tuffasse il resto saprebbe se c'è una foca naturalmente poiché nessuno vuole fare da cavia tutti aspettano e certe volte cercano anche di spingersi in acqua di solito però il comportamento egoista consiste semplicemente nel rifiuto a condividere una risorsa importante come il cibo il territorio o il partner sessuale il pungiglione delle api operaie è una difesa molto efficace contro i ladri di miele l'ape che punge è però un kamikaze perché nell'atto di pungere nell'atto di pungere gli organi vitali interni le vengono strappati dal corpo e l'insetto muore la sua missione suicida può aver salvato le riserve di cibo vitali per la colonia ma l'ape non è più lì a tranne beneficio secondo la nostra definizione questo è un comportamento altruistico si ricordi che non stiamo parlando di motivi consci questi possono essere presenti oppure no sia in questo caso che negli esempi di egoismo ma non hanno importanza per la nostra definizione donare la vita per quella di un amico è ovviamente un atto altruistico ma lo è anche correre un lieve rischio per il suo bene molti piccoli uccelli quando vedono volare un predatore come il falco emettono un richiamo di allarme caratteristico che permette all'intero storm un'appropriata manovra di fuga esistono prove indirette che l'uccello che dà l'allarme si mette in pericolo perché attrae l'attenzione del predatore su di sé si tratta solo di un rischio di lieve entità ma sembra comunque a prima vista un atto altruistico secondo la nostra definizione gli atti più comuni e più cospicui di altruismo animale vengono compiuti dai genitori specialmente dalle madri nei confronti dei loro piccoli i genitori li covano nei nidi o li portano nel proprio corpo li nutrono con enorme sforzo e corrono grossi rischi per proteggerli dai predatori ad esempio molti uccelli che nidificano al suolo mettono in atto una cosiddetta azione diversiva quando si avvicina un predatore come una volpe il genitore si allontana dal nido zoppicando facendo pendere un'ala come se fosse rotta il predatore pensando a una facile preda viene attirato lontano dal nido che contiene i pulcini alla fine l'uccello smette di fingere e balza via giusto in tempo per sfuggire alle mascelle della volpe in questo modo ha probabilmente salvato la vita dei suoi piccoli ma a rischio della propria non sto cercando di dimostrare qualcosa raccontando delle storielle esempi particolari non sono mai prove serie che permettono una valida generalizzazione queste storie vogliono essere soltanto illustrazioni di quello che intendo per comportamento altruistico ed egoistico a livello dell'individuo questo libro dimostrerà come sia l'egoismo che l'altruismo individuale sono spiegati dalla legge fondamentale che io chiamo egoismo del gene ma prima bisogna considerare una particolare spiegazione erronea dell'altruismo perché è largamente conosciuta e anche largamente insegnata nelle scuole molto bene questo è tutto spero che questo estratto vi sia piaciuto fatemi sapere se leggerete il libro alla prossima